in questa prima lezione andremo a vedere quella che è l'interfaccia di adobe after effect siamo nella versione 2020 ma l'interfaccia oltre a qualche elemento grafico non è mai cambiata più di tanto andiamo velocemente ad elencare quelle che sono le finestre che compongono l'interfaccia abbiamo innanzitutto nella parte superiore una toolbar poi abbiamo il menu di sistema nel mio caso sono su apple su sistema mac quindi avrò il menu a comparsa in alto per chi sarà invece su windows il menu sarà esattamente sopra questa barra delle opzioni questa barra dei tool alla fine della barra dei tool troviamo quella che è il selettore delle interfacce ci arriveremo più avanti ma è una cosa molto semplice dato che noi all'interno di adobe after effect abbiamo la possibilità di poter spostare qualsiasi pannello dove noi vogliamo dove meglio crediamo possiamo creare la nostra interfaccia di lavoro come meglio pensiamo quindi questa che siamo per questa che stiamo vedendo è l'interfaccia di base con cui adobe ci dice di cominciare infatti si chiama interfaccia di default ma se andiamo a cliccare sulle altre vediamo che adobe after effect riorganizza quelle che sono le le varie finestre i vari elementi che compongono l'interfaccia per seguire al meglio le indicazioni di quella che abbiamo qui in alto possiamo continuare abbiamo quella standard abbiamo poi quella per gli schermi più piccoli abbiamo quella con le librerie e andiamo avanti ce ne sono ancora tante altre ad esempio quelle per l'animazione dove vengono mostrati dei tool specifici per l'animazione e quant'altro l'importante sapere è conoscere quelli che sono però i pannelli principali i pannelli principali sono quello della composizione o canvas dove all'interno troviamo il pannello sia per la composizione che la finestra dove noi andremo a lavorare dove noi vedremo i nostri video un altro pannello che è quello del footage quindi del girato se clicchiamo due volte su un elemento che abbiamo importato potremo guardarlo in questo pannello footage del tutto simile a quello composition con la differenza che la composizione il pannello composizione si rifà tutto quello che vediamo qui è visto all'interno di quest'altro pannello che il pannello della nostra timeline possiamo avere tantissime timeline o composizioni come vogliamo chiamarle all'interno di adobe after effect ogni composizione è letteralmente una composizione una comp all'interno del progetto dove noi possiamo andare a realizzare le nostre lavorazioni che siano animazioni o di effetti visivi poi abbiamo anche un altro pannello che è quello del livello ci arriveremo più avanti mentre se nel pannello footage lo utilizzeremo quando cliccheremo due volte su un elemento importato e lo vedremo nel pannello footage il pannello layer invece ha altre tipologie di comandi e serve alla stessa funzione molto simile a quello del footage ma per un livello in particolare quindi se noi abbiamo un livello e ci clicchiamo due volte sopra a meno che non sia un'altra composizione quindi entriamo all'interno di quella composizione ci si aprirà questo pannello con una serie di parametri da poter utilizzare abbiamo appena accennato a quella che è la nostra timeline o composizione quindi qui sotto noi avremo tutti i nostri livelli con cui poter lavorare inoltre di base ci viene mostrato quest'altro pannello che è la render quick in pratica in questo pannello noi andremo ad inserire in un ordine la nostra i nostri file per l'esportazione e infatti poi da questo pannello che si avvierà il render per l'esportazione finale non meno importante il pannello di progetto il primo in alto a sinistra normalmente dove all'interno andiamo ad importare tutti i nostri elementi e dove verranno archiviati ed organizzati tutti i file di progetto ancora a fianco al pannello di progetto normalmente troviamo il pannello del controllo degli effetti il pannello di controllo degli effetti è un pannello dove una volta cliccato il livello della nostra composizione ci mostrerà tutti gli effetti al suo interno infine sulla destra nel pannello di default stiamo sempre parlando nelle impostazioni di default abbiamo una serie di menu a tendina che hanno determinate funzioni nello specifico la prima quella dell'informazione ci dà un'informazione specifica sui colori e sulla posizione del nostro cursore molto utile in alcuni casi il pannello dell'audio perché può capitare di lavorare con delle tracce audio quindi abbiamo un pannello per la referenza audio un pannello che servirà per la preview una volta che noi abbiamo realizzato una nostra composizione per poterla vedere abbiamo bisogno di questo pannello che con una serie di parametri ci permette di lanciare un pre render e guardare la nostra animazione poi abbiamo il pannello degli effetti e dei preset dove sono elencati all'interno tutti gli effetti presenti all'interno del nostro sistema il pannello dell'allineamento molto interessante per chi viene da illustrator da indesign conoscerà già la funzione di questo pannello serve a una volta cliccato e segnate le opzioni ad orientare organizzare il livello selezionato in base al pulsantino e alla tipologia di allineamento che vogliamo abbiamo il pannello delle librerie che è un pannello che funziona con adobe stock e non solo con il nostro abbonamento di adobe creative cloud possiamo creare una serie di librerie con noi dove andiamo abbiamo poi il pannello del tracker questi sono tutti i pannelli che noi andremo ad analizzare poi nelle lezioni più avanti in modo specifico ed approfondito uno ad uno nel frattempo vi basti sapere che questo pannello serve a tracciare un movimento e non solo anche a fare altro anzi molto altro uno dei pannelli più amati dell'ultima release di adobe di adobe after effect il content our fill questo pannello ci permetterà di cancellare dall'immagine degli elementi che ci disturbano molto interessante lo vedremo in una lezione apposita poi infine due pannelli non meno importanti che sono quello per il pennello per le dimensioni le impostazioni del pennello perché abbiamo dei tool che utilizzano il pennello e poi il modo in cui il pennello agisce sull'immagine qui abbiamo altre opzioni insomma questa è l'interfaccia di adobe after effect non è complessissima basta conoscere il funzionamento di ogni pannello per non perdersi all'interno